...di minuti fa, non li vedo più, ma penso che stanno sotto al quadro, sì, qualcuno ha già lo vito. Un applauso forte pure per loro. Siamo pronti, possiamo preparare. Francesco Delprete, per voi! Grazie a tutti. Giovanni, vogliamo sentire forte le mani, tu, facciate le mani, grazie a tutti. E tutti i ragazzi del Comitato, che hanno permesso questa grande testa e l'odore di nostro cugino. Non vedo più di Pasquale Delprete, sotto al quadro. Vai ragazzi, siete prontissimi, vai! Oh, bravissimi! Vai, facciamolo saltare, facciamolo saltare, vai! Ma che festa stupenda! Guardate che abilità, guardate un po', guardate, apportiamoli, perché sono fortissimi! Buon appetito! Un'unità corretta, artificiale, sono portatori ammolto, per la tua squadra! La nuova Napoli! La posizione! Grazie a tutti.